sono quei bellissimi ex film sovietici che uno guarda sempre con molto piacere voglio dire ci sta ci sta alla parolaccia la parolaccia vorrei troppo andarci anch'io vorrei tantissimo andarci anch'io la parolaccia mi ispira veramente un sacco vediamo un po' cosa abbiamo qua perché in realtà avevo messo 6400 cose però il problema è che devo cercare di capire che cazzo voglio dire oh volevo vedere questo video di Tom di Thomas la dieta dello strongman è una cagata pazzesca volevo dire che cazzo era mi incuriosivo un sacco il titolo di siete mai chiesti quante calorie assume il campione italiano madonna ma quanto è grande raga madonna mia ma quanto è grosso scusa di siete mai chiesti quante calorie assume il campione ma che cazzo è ma scusa ma Tommy è un bambino ma che cos'è ma cos'è sto coso ma Tommy sembra Thomas sembra un bambino in confronto a lui madonna mia no Thomas è un tappo sì ma non così tappo zio non è un metro e sessanta eh cioè madonna mia gli arriva alla spalla ma che cazzo cos'è questo coso un italiano della disciplina strongman lui è Andrea Invernizzi un ragazzotto di 38 anni che con i suoi due metri di altezza e 160 kg di peso si è conquistato il titolo della persona più forte d'Italia vincendo il campionato di strongman italiano la giornata di Andrea questa è la moglie scusami scusami questa 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 è la moglie oh si divertirà parecchio la moglie perché nel senso questo questo trombarsi no nel senso si divertirà parecchio perché questo qua è un quarto di bue nel senso questo che quando la tromba la apre in due cioè porca si vede che a lei piacciono proprio gli omaccioni gli piacciono gli omaccioni quelli grandi gli piacciono proprio gli omoni si vede perché dio mio inizia tutte le mattine con la colazione che viene preparata con amore dalla moglie e consumata intorno al si è la moglie raga è la moglie porca troia la moglie piacciono i vichinghi perché questo costui è veramente un bisonte cazzo sai come si diverte cioè la moglie la prende con un braccio con un braccio con un braccio la lancia in giro la prende tipo la prende tipo per il copino per la collottola dietro se la porta in giro la mette in tasca praticamente le 8 e 45 pasto allora Thomas per colazione mangiamo un omelette con mica zio questa è la colazione porca troia cioè io la mattina mi bevo un caffè mangio due biscotti a dire miglia mangiarsi sto bagaglio a colazione a me già vien da vomitare con dentro 6 uova con un etto e mezzo circa di pollo a fette la parte esterna è un prodotto taiwanese che si chiama dumping fagioli e 5 pomodorini e poi alla fine dopo il pasto abbiamo anche un dorayaki ci vuole ci vuole in effetti chi vedrà Doraemon è il dolcetto tipico che mi piace un sacco a Doraemon quindi praticamente Andrea mi sta micchia raga c'è un etto e mezzo di pollo con dentro 6 uova e della copertura di ma io mangio sta roba a colazione e mi caga ad osso dicendo che a 37 anni tu guardi ancora i cartoni animati erano 3 figli quindi sono costretto ma con piacere vabbè cominciamo buon appetito buon appetito complimenti alla moglie eh ragazzi se non ci fosse lei io non riuscirei a cucinarmi tutti i pasti da solo porca miseria ti fai trattato io benedica le donne per come cucinano di merda gli uomini al giorno d'oggi vabbè che in realtà realisticamente parlando non è poi così vero perché al giorno d'oggi anche le donne cucinano di merda quindi trovare qualcuno che sa cucinare al giorno d'oggi è un miracolo partare bene e mangiare come un altro lavoro quando mangi 5-6 volte al giorno partare un sacco di tempo lo strong è un lavoro sì 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 se lo fai a livello professionistico ti pagano ti fai le gare ti pagano è un sacco seguito quindi sì giustamente abbiamo anche il succo di frutta stamattina abbiamo succo d'arancia succo di frutta ma che cos'è questo bicchiere scusate adesso 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 signor non ho capito come si chiama mi perdoni adesso lei mi deve dire dove cazzo ho trovato questo bicchiere ma scusami ma ci sta un litro di succo è una caraffa non è un bicchiere scusami eh Andrea mio omonimo adesso mi dice dove cazzo ha comprato sti bicchieri di mela di solito raga c'è stato raga c'è stato un terzo di bottiglia di succo da un litro e mezzo che cazzo sti da così la bevo tutta a colazione per cui abbiamo un'altra per te una bottiglia intera tieni va ti do un po' di succo d'arancia per iniziare ah facciamo mezzo e mezzo mi piace ora cinci sciocca ragazzi come è fatto a dire che non è grande sto bicchiere ma che cazzo state dicendo ragazzi ma cosa dite che non è guardi la mano di Thomas ma come fate a dire che non è grande il bicchiere ragazzi ma cosa dite mi va gnocca cioè vabbè io capisco non è non è grande come la mia tazza per l'amor del cielo lo capisco anche perché la mia tazza è una delle cose più grandi che abbia mai trovato in tutta la mia vita però insomma voglio dire comunque io ce l'ho più grosso refreshing porca miseria ne ha già bevuto mezzo questo pasto qua sarà penso vicino alle 1600 1600 calorie praticamente stai mangiando diciamo l'apporto calorico di una classica ragazza che mangia sano in una colazione colazione ma ora una domanda per te Andrea ma ti piace mangiare sì e no nel senso che quando mangi così tanto alla fine non te lo gusti neanche più e arrivi a fine giornata che gli ultimi bocconi sono difficili da mandare giù sono d'accordo con lui secondo me mangiare così a forza perché ti devi allenare ti fa perdere un po' il gusto a mangiare un po' io un po' sono d'accordo con lui mangiare è bello quando lo fai però perché ne voglia mangiare a forza perché hai bisogno di introdurre una squintalata di calorie proteine carboidrati secondo me diventa un po' pesante alla lunga diventa un vero e proprio lavoro è un altro lavoro mangiare è bello è che l'animale qui a tavola sono io perché Andrea tutto bello curato gigantesco sta mangiando con forchetta coltello io con le mani porca miseria e quindi comunque tu mi dicevi che sei tornato in Italia da due anni ho vissuto a Taiwan per 11 anni come avrei notato mia moglie è di Taiwan che carina la moglie però che bellina guardala è pacciocca cosa sta facendo sta facendo un'iniezione di maionese alle crocchette cosa sta cosa cosa signorina signorina sta facendo una pera di maionese alle crocchette che sta succedendo abbiamo due bimbi hanno iniziato l'asilo alle scuole qui per cui alla fine abbiamo deciso di rimanere a Taiwan si sta benissimo però a casa tua Taiwan si sta benissimo ma la cina comunista a fianco che ti vuole invadere non è il massimo quindi l'Italia è l'Italia è certo praticamente Andrea fa una food challenge ogni giorno madonna mia ma quanto è sto dietro l'ho già guardato tu è molto importante restare idratati sia chiaro e per farlo in modo sano e salutare come sempre vi consiglio ti voglio bene Thomas schifo senza presa questa azione che potremmo porto e restate idratati con gusto con i wrap ma io direi che potremmo buttarlo giù a school questo si dai oh raga comunque quattro bicchieri si sono seccati la bottiglia cioè dato facile e da quant'è che pratichi lo strongman sono 7-8 anni circa però prima vivendo a Taiwan non avevo l'opportunità di gareggiare per cui mi sono stati a gareggiare un po' di più l'anno scorso sono campione italiano in carica ho vinto scusa cosa faceva prima che gareggiava però se non gareggiava come si manteneva scusa ho titolo nel 2022 adesso alla fine del mese di ottobre ci sarà la competizione del campionato italiano 2023 e spero di riconfermarmi devi Andrea devi porca miseria speriamo che faccia diventi anche campione del mondo mi permetto con paesano facciamo il tifo per il nostro ma lo sai che è stato sempre il sogno nella mia vita provare a fare lo strongman solo per mangiare certe quantità di cibo è un bel modo per convincere la gente a fare strongman ci vorrebbe anche l'altezza però porca miseria quanto sei alto? un metro e 98 sei solo 30 centimetri più alto di me hai ragione un e 68 Thomas non mi sembrava così basso quando l'ho incrociato però quando ci ho parlato non mi sembrava 10 centimetri meno di me sarò sincero mi sembrava un po' di più adesso sono circa 156 157 chili io merda ragazzi 160 chili di uomo porca troia sì io sono un e 78 porca troia io spero che la moglie stia sopra perché spero per lui che la moglie quando fanno sesso stia sopra perché Cristo Dio avere avere sopra sto coso qua odio muscoli 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 blip perché in realtà gli strongman ci hanno anche molto grasso ma in realtà essere ciccioni da strongman aiuta aiuta se fai bodybuilding o culturismo ci sta essere asciuttissimi da strongman invece essere ciccioni aiuta perché comunque il grasso può dire che nel complesso aumenta anche la tua potenza fisica comunque per cui in realtà di muscoli puri impossibile però come fai il grasso aiuta tantissimo primo il grasso protegge i muscoli e poi comunque il grasso in linea generica aiuta anche lo sviluppo di massa muscolare e senza contare che la quantità di cibo che introducono lo fanno per massimizzare al massimo possibile la massa muscolare che hanno ma non possono essere magri cioè loro mangiano tutto quello che possono per sviluppare al massimo i muscoli il problema è che mangiando così tanto la ciccia la metti per forza per forza per forza no problemi di salute non hanno problemi di salute perché non è che si drogano non fanno uso di sostanze anche perché negli strongman c'è un fortissimo controllo antidoping e comunque fai conto che se usassero steroidi sarebbero molto più magri e si vede cioè è impensabile vedere uno che si allena e usa steroidi con la pancia è impossibile perché gli steroidi ti asciugano un sacco se ti allena comunque è impensabile quindi non intendevo quello allora non ho capito dici di salute in generale di salute in generale a mangiare tutta sta roba e vabbè fai conto che comunque bruciano molto loro e comunque fai conto che una persona di 160 chili secondo me 3-4 mila calorie al giorno è la base è la base se pesi 160 chili di cui molti sono muscoli per me 4 mila calorie al giorno è il minimo che ti serve per mantenere io peso 72 praticamente neanche la metà di te si ci sarà un'altra sostanza corta perché se è buono comunque sto su di meno e te al colli ci ne bevi oppure ho capitato che magari esco la sera nel weekend ma cosa no patatino ho capito volta ogni due mesi l'ho battuto l'ho battuto a tavola e ora concludiamo un dolcetto c'è una particolarità che se lo apri un pelino vedi che c'è una specie di ripieno si e quindi tanti stranieri pensano che sia cioccolato invece la fregatura è che è una pasta fatta di fagioli rossi però è buono spaggiamo molti hanno detto che sta pasta io sono 1,93 mi servono circa 3500 calorie al giorno scusa quanto pesi ma a parte il fatto che è esattamente scusa quanto pesi quanto pesi di muscoli Mauro grazie per aver chiesto sabbatino il mio miglior amico è 2 metri e 4 e arriva a 2500 calorie e il mio amico pesa 100 chili di muscoli non è possibile che tu ne hai bisogno di 3500 a meno che tu non sia uno che fa un sacco di palestre e 630 chili di muscoli in quel caso ti posso pure dare ragione il mio miglior amico è 2 metri e 4 e ha bisogno di 2500 2600 calorie 3500 è impossibile zio che cazzo a meno che non sia una montagna un dolce salato oh è un ottimo metabolismo cazzarola è buonissimo sembra quasi mermellato diciamo la duro ultimo morso a me ci sta venendo fame a me no cazzo c'è vedo tutta sta roba sinceramente non mi sta venendo fame porca primo pasto signori miei andato dopo colazione Andrea se non che ingegnere meccanico pure minchia è un mostro quest'uomo gestisce la sua prima attività di designer e progettazione designer designer lì là grazie per lì un anticipatino minchia pure pur ingegnere meccanico madonna mia raga che cazzo ti trovi un ingegnere così a lavoro e il progetto o lo approvi o lo approvi se no ti smonta ta cartoccia a Taiwan realizzando ogni tipo di componente o accessorio commissionato dai clienti fino all'ora del secondo pasto ovvero il pranzo ragazzi sto qua un mostro cioè un ingegnere fa il designer ed è uno strong è un ingegnere anomalo cazzo purca troia è un ingegnere stra anomalo 2000 calorie una ragazza no ma che cazzo dice una ragazza grande 2000 calorie dovremmo andare a controllare le tabelle 2000 calorie una ragazza però grande le prende sono le 12 e 5 minuti e Andrea continuiamo a mangiare andiamo con il pranzo mica raga vi giuro mi sta venendo mi sta venendo cioè a vedere sta roba qui mi sta venendo cioè nel senso quella roba di prima già mi ha messo cioè mi ha saziato solo a guardarlo cioè a vedere sta roba qui è l'ora del pranzo abbiamo 300 grammi di hamburger fatti in casa con carne di manzo un po' di salsiccia e la cipolla fat e 200 grammi di patate rosalate in padella pensavo peggio il pranzo sono sincero sono sincero pensavo peggio il pranzo il tutto accompagnato con della coca cola zero per non svorare le calorie Andrea si 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 mi cadi così con questa dieta gigantesca coca cola zero vabbè ma per non esagerare con gli zuccheri non si sa mai ogni giorno è festa per Andrea pensavo pensavo molto peggio sono refreshing allora assaggiamo le polpette della Amy faccio un bel focus e taste test ma che ti sei portato a casa ho fatto tanta strada per trovarla ma servite a riveri infatti cucina bene comunque la moglie c'è da dire che non cucina ma complimenti alla moglie madonna santa sono veramente buone scugite siamo una famiglia un po' vecchio stampo nel senso che ognuno ma io ragazzi c'è i suoi ruoli ognuno fa quello che gli vede meglio diciamo ognuno fa quello che gli vede meglio la moglie cucina lui mancia che carino siamo una famiglia vecchio stampo ognuno fa quello che gli riesce meglio la moglie cucina lui mancia vabbè che carino però vabbè oh alla fine se lei se lei se comunque se comunque lui la mantiene vabbè oh raga oh ammetti che lui prenda una barca di soldi lei faccia la casalinga oh ci sta raga ci sta eh non è che una può anche decidere di fare la casalinga nella vita magari lei non lavora fa la casalinga oh le farà da mangiare non è un crimine voglio dire io comunque raga quando sono andato a fare l'analisi della massa corporea grassa muscolare ossea e quant'altro ho fatto tutto il test compreso il test del dna ho fatto tutte le cose raga io a 80 kg per mantenere il peso doveva andare intorno alle 2.200 2.100 2.200 io 2.500 non ci sono mai arrivato raga io ho fatto tutto il test compreso il test del dna quindi io non so cosa dire magari avete ragione voi metto le mani avanti perché magari qua c'è qualcun esperto laureato lungi da me voler contraddire chi ha fatto degli studi per l'amor del cielo metto le mani avanti però a me era così facessi da mangiare io non sarei tanto bravo però magari ho tolto penso che evidentemente se tu faresti da mangiare saresti secco come il sottoscritto Andrea manco i muratori mangiano bene così e tanto così il vantaggio di fare lo stram non mi sono dimenticato che abbiamo anche della salsa burger che ha il suo sapone eh sì la salsa burger vuol dire tutto la moglie voleva i figli grossi può essere può essere può essere magari la moglie voleva dei figli grossi anche lei ma prima di fare lo strongman ti arrivavi in palestra facevi un altro sport facevo canoa cioè per te cammini tu 160 kg di peso riuscivi a restare sopra una caroa no all'epoca pesavo poco più di 100 kg aeroso mica hai messo su 60 kg porca troia sicuramente più aerobico di adesso ho fatto canoa per tanti anni per più di 10 anni 12 anni poi quando per lavoro mi sono trasferito a taiwan non è proprio uno sport che puoi praticare ovunque no anche perché a taiwan la maria cinese ti bombarda se ti vedi in mare qui per necessità di cose mi sono un po' chiuso in palestra e una cosa tiene l'altra mi sono ritrovato a fare lo strongman e questo cambiamento la tenera età di 30 anni più o meno sì ho deciso di fare lo strongman a 30 anni è un'età anomala di solito cominciano molto prima a farlo è un'età abbastanza anomala di solito chi comincia a fare questo sport comincia cominciano a farlo molti anni prima lui ha cominciato relativamente tardi un argomento penso proprio curioso e anche il pubblico a casa lo sarà i tuoi massimali sui fondamentali hanno fatto 250 kg di banca grazie mille per le 5 grazie mille patatino sullo stacco grazie mille paratino grazie mille raga maximali i fondamentali hanno fatto 250 cos'è che ho detto la moglie con un braccio no la moglie con due dita raga questo mette due dita sotto al culo della moglie e li fa da sgabello la solleva con due dita e la portano in giro è buona 50 kg di banca sullo stacco ho fatto 401 kg senza 401 kg è bello impegnativo sollevare 400 kg da terra porca trova il corpetto che è il record italiano a livello di squat con la safety bar che è un attrezzo tipico degli stromen faccio circa 2-3 coppie con 320 kg però non ho mai testato un massimale non so perché mi sento così piccolo oggi vicino a te perché lui è la montagna quindi in quanti siete nella vostra categoria in Italia che gareggiate? in Italia nella categoria pro heavyweight quindi sopra i 105 kg 6 o 7 ragazzi pochi pensavo molti di più pensavo molti di più solo 6-7 in tutta Italia quindi tu gareggi anche all'estero giusto? si gareggio soprattutto all'estero perché faccio soltanto una gara in Italia all'anno che è il campionato italiano e gareggio principalmente in un'organizzazione che si chiama Strongman Champions League che quella Strongman Strongman Champions League vinci la tua battaglia e va scusate che è stata quella americana immagino in un momento sono quarto nella classifica generale e sono il primo italiano che si qualifica per la finale della Strongman Champions League tanta roba cazzarola quarto su quante persone? i partecipanti della Champions League in un anno saranno una quarantina di atleti beh buono quarto su quaranta mica male complimenti Andrea porca miseria grazie Thomas ha dei denti bianchissimi non ti recoveri diciamo dopo una gara del genere perché comunque dovrebbe portarti all'esesperazione a livello fisico presumo no? i due giorni successivi da gara sono sempre no zombie questo giro mi è venuta una contrattura trapezio deltoide sinistro si e voglia fargli un massaggio porca troia questo per massaggiargli il trapezio per massaggiargli il deltoide volevo dire cazzo ti serve una pressa idraulica prendi prendi una chiave inglese glielo massaggi così il deltoide come se stessi svitando un bullone porca troia cioè micchia per massaggiarla a lui ti serve una ruspa io non faccio cose particolari vado dal fisio la cosa che preferisco fare è stare sdragliato e farà un c***o il giorno te lo meriti il riposo del guerriero pranzo andato cosa c'è di sopra e colazione? chiedo perché e ora si torna al lavoro dopo pranzo Andrea torna nuovamente al lavoro questa volta però per la sua seconda attività controllando la distribuzione di accessori per la palestra del marchio Cerberus in Italia per poi prepararsi lo spuntino pre-workout lo spuntino una scatola di cereali lo spuntino un'intera scatola di Kellogg's ci vuole lo spuntino un'intera questo uomo possiede il 10% delle quote azionari della Kellogg's perché sono le 15 e 20 madonna mia ma che ma che cos'è questa roba 22 minuti e dopo tutto sto lavoro Andrea finalmente si mangia si torna a mangiare anzi era ora infatti iniziavo a sentirmi un po' affamato che cosa abbiamo come spuntino? 30 grammi di proteine 80 grammi di frutta secca ed idratata e 100 grammi di riso soffiato o meglio ancora di cereali Andrea il mio alimento preferito lo sapevi è la tua preferita ma da cosa sono queste tinozze tra l'altro cioè queste tinozze che sono più degli acquari che dei contenitori di cibo vero c'è io morirei di latte e cereali ma in questo caso abbiamo latte no in questo caso c'è l'acqua perché con le proteine no più che altro magari con le calorie non si sa mai che schifo ragazzi cioè cereali con l'acqua che schifo quanto cuore ha questo uovo che schifo cereali con l'acqua ha un gran cuore questo uovo cereali con l'acqua ma che merda e i cereali con l'acqua acqua e giustamente acqua e cereali poi nel dubbio voglio dire fai bollire la pasta nel latte perché vogliamo invertire le cose e poi latticino con quello che mangiamo sa mai vabbè buon appetito allora buon appetito io ho fortuna che digerisco e chissà amazing ma thomas non dire cagate dai non mi puoi dire che sono amazing i cereali con l'acqua ma dai questo presumo sarà il mio spuntino preferito della giornata ma che cazzo dici thomas allora ti spiego in maniera tale che lo capisce anche doc teo le calorie vanno in base alla persona del tipo il peso e all'altezza prendo in esempio me che sono 123 kg per un'altezza di 168 cm quindi io mangio 1892 calorie al giorno ma io le mangio ma perché devo dimagrire quello lo so Elisa questa è proprio la base voglio dire bene poi il frutto secca gli do un tocco in più che poi anche se dobbiamo analizzare questo spuntino a mio avviso è veramente dietetico alla fine il riso soffiato sono solo carboidrati non ci sono zuccheri le proteine sono proteine eppure la frutta secca sono grassi buoni è facile fare la dieta ragazzi fa veramente schifo sta roba cioè vederla mi fa veramente vomita mi sembra la sciacquatura dei piatti cioè mi sembra quello mi sembra i cereali che tu butti nel lavandino quelli che sono i quattro incrocio avanzati che li metti lì diciamo che forse nel vostro caso a meno che non siate di strongman dovete un attimo ridurre le quantità però sì la quantità che è qua un po' e curiosità non ti capita mai di eccedere quella dose io mangio le stesse cose tutti i giorni ma guarda eccedere quella dose tanto non penso che per lui sia un grosso problema anche se comunque mi piace quello che mangio diventa un po' ripetitivo perché mi diverto nel mangiare più di tanto o assaporo il gusto degli alimenti proprio così tanto e in tutto ciò signori miei ho scoperto solo oggi che andrà anche ingegnere chimico ma quante cose ma quest'uomo quante cose scusami ma come ingegnere meccanico ingegnere chimico strongman ma quante cose ha fatto quest'uomo pure pure e poi ah ok ma va a cagare Thomas ma va a cagare ah ok meccanico ma boh come abbiamo già detto ma si ma Thomas è rincoglionito ma come cosa cambia da chimica meccanica Thomas io appena ti rivedo cioè ti strozzo ma come cosa cambia da chimica meccanica scusami è come dirti che cosa cambia tra runner e powerlifter cambia tutto hai ragione vedete come dire cosa cambia tra giurisprudenza e medicina ma come scusami quindi conduci un'attività a Taiwan ne hai un'altra qui in Italia quindi avete capito se dovete fare gli strongman dovete mangiare tanto lavorare tanto e non allenarvi perché oggi non ci siamo ancora allenati prima il dovere poi il piacere in questo caso il dovere non è lavorare ma mangiare sta cosa ragazzi non riesco a guardarla mi fa troppo schifo e comunque per assurdo almeno cioè vabbè che ha messo le proteine quindi l'acqua sarà un pochino più buona però le proteine in polvere e le mescui con l'acqua e poi ci butti i cereali la frutta secca sembra comunque di bere il latte e i cereali sì perché le proteine comunque rendono l'acqua più buona però a me sembra sempre della broda ragazzi sembra il brodo dei tortellini visto così io non so visto così mi sembra più brodo di gallina tra l'altro sottolineiamo anche le gigantesche bolle che abbiamo usato sì sono delle insalatiere non sono delle Andrea io voglio diventare uno strongman se si mangia così io voglio diventare uno strongman beh se vuoi diventare uno strongman ti devi anche allenare come uno strongman però e finalmente dopo ben tre giganteschi pasti Andrea entra nel suo mondo lo strongman il suo programma di allenamento varia a seconda della tipologia sta sollevando dei semiasse dei camion la tecnologia di gara prefissata ed è quasi sempre strutturato in cinque sessioni studiate sia per migliorare costantemente la sua forza sia per affid... se questo qui ti fa così troppo forte ti crea l'anticiclone delle avvorre cioè ti fa così troppo forte ti fa venire l'uragano catrina il burro grazie ma poverina ma la moglie è una santa vi prego qualcuno la faccia santa cioè questa donna cucina da mattina a sera questa donna bisogna farla salta ma dio mio cucina tutto il giorno la filo è per segno ogni singola calorie dei suoi pasti sono le 20 e 36 minuti e dopo un duro e faticosissimo allenamento Andrea è l'ora di mangiare il quarto pasto della giornata se non erro sì io la chiamo la prima cena prima cena bello mi piace la prima cena mi suona benissimo quindi ce n'è una seconda anche? eh sì ne avremo un'altra dopo ah vabbè in questa prima cena cosa troviamo? 200 grammi di pollo stile kebab giusto che vuole avere un po' più di sapore e 350 grammi di riso questo è pure buono raga però mi sta stomacando vedendo tutta sta roba vi giuro mi sta stomacando a me che io non mi stomaco mai buon appetito buon appetito a te Andrea piccolo fuoco per gli amici a casa sembra anche buono però dio mio dopo tutto quello che ha mangiato buonissimo buono comunque te Andrea senza l'emi non va da nessuna parte sono molto fortunato puoi dirlo forte sai invece chi è meno fortunato il tuo gabinetto perché non oso immaginare che cazzo cagherai cioè caghi dei mattoni lego dei mattoncini lego porca cagherai delle tegole per i tetti con quello che mangi dio mio allora tu a Thomas allora tu a Andrea e oltretutto oggi mentre stavo facendo un diciamo importante tra virgolette stacco con 120 kg mi sono girato dal nulla che il bilancelera sperito 120 kg li ha presi come se fosse la busta della spesa 120 kg sembrava la cassa d'acqua da un litro e mezzo da sei che ti compri alla cona li ha presi su li ha portati ah di sicuro come abbiamo già detto altre mille volte con lui lui non brontola per portare i sacchetti della spesa sicuro proprio perché è passato Andrea che con una singola mano me l'ha derubato mi vado troppo ridere la presa 120 kg stavo facendo un diciamo importante tra virgolette 120 kg io non so se venite conto con quale semplicità sono levato con un braccio a 120 kg e stacco con 120 kg mi sono girato dal nulla e il bilancelera era sperito perché è passato Andrea che con una singola mano me l'ha derubato 120 kg così easy mi sembrava un lavoro inutile quindi ho pulito tutto comunque posso dire che mi hai diciamo realizzato un piccolo sogno perché ho sempre voluto vedere un strongman dal vivo cioè veramente io sono affascinato dal stile di vita che avete ma perché comunque ricordiamo anche che lo strongman è una disciplina veramente difficile da fare cioè devi avere un'ambizione assurda devi dedicare la tua vita a questo no è un sacrificio è un lavoro 24 ore su 24 come uno sport dove devi essere sempre pronto a performare al meglio come ti dicevo prima devi essere praticamente un atleta a 360 gradi 8 mesi all'anno anche di più comunque sembra poco io non ho mangiato metà ma se faccio così diventa un altro piatto praticamente e la cosa bella in tutto ciò è che comunque segue una dieta diciamo equilibrata è abbastanza sana cioè non è che cedi con McDonald's e queste cose qui no non ho niente infatti è facile arrivare a 7000 calorie mangiando junk food ma se mangi pulito 7000 calorie è tanto cibo eh sì 8000 calorie sono un botto tutti a casa ti chiederanno ma se mangi così tanto quanti seduti farai al bagno? quanti ne ho fatti oggi dato che sei stato qui tutto il giorno? due volte una persona normale dai beh io ne faccio una al giorno solo due pensavo peggio onestamente mangiando così tanto vi dico la verità due cagate al giorno le faccio io e non mangio così tanto quindi pensavo peggio magari quelle due al giorno che fa sono molto impegnative cioè della serie che caga dei tralici dell'alta tensione perché pensavo di più no no sono apposta io due tre a settimana che carina chiara ma a te ci sta perché sei una donna estetica come tutte le donne voglio dire ci sta quello mi piace stigarti ma perché trovo poche persone che mangiano così mi piace segarti cos'è che ha detto no no sono apposta mi piace stigarti ma perché Thomas non ho capito Thomas non ho capito ah i stigarti ragazzi io ho capito segarti ragazzi io ho capito mi piace segarti tranquillo se non ce la fai di youtube io no no non ho apposta mi piace stigarti ragazzi sembra che dica mi piace segarti voglio dire io sono donna e cago quattro volte al giorno in maniera importante ma lì bisogna pelarti al buco del culo trovo poche persone che mangiano così di gusto queste porzioni mi sento a casa e nei giorni resti mangi sempre le stesse cose non è più o meno può capitare che magari riesco a mangiare se vada un sushi tolgo il pasto che include il pesce in maniera sostituisco un pasto che faccio fuori casa con quello tipico della dieta però notevole si ragazzi ho capito stigarti ragazzi mi raccomando control ci vuole del self control per favore mi raccomando calma equilibri bella cosa l'avete capito io ti aspetto per l'ultima scucchiaiata si è detto mangiare Andrea naturalmente scherzo siamo entrati in confidenza non mi permetterei mai altrimenti anche perché rischierei ultima ultima prima cena andata bello ragazzi quanto sono bene prima cena raga che bello che suona benissimo prima cena ma è proprio bello adesso ci si fa una doccia ce ne posiamo un po' aspettando il tempo giusto per fare la seconda cena dopo la prima cena quindi Andrea si rilassa giocando con i suoi due figlioletti Jacopo e Mirko crollando si rilassa con i suoi figlioletti Jacopo e Mirko spezzando loro un paio di braccia due costole così già per fargli capire come funziona la vita successivamente sul divano per qualche minuto miglia ragazzi è tantissimo un uomo ma quanto quanto è un uomo questo uomo cioè gioca con i figli e poi sul divano mentre la moglie vedi questo vedi questo sai che cos'è questo questo sono io la vigilia di Natale questo sono io la vigilia di Natale dopo che abbiamo mangiato per quattro ore di fila che mi metto un attimo mi metto un attimo sul divano e dico mi metto un attimo sul divano che mi chiudo gli occhi un attimo e poi e dopo mezz'ora mi svegliano perché è arrivato un altro dessert è arrivato un altro pandoro altra frutta secca il mandarino si gioca a tombola successivamente sul divano no no sezuma è così che funziona sezuma funziona così cioè nei pranzi di Natale è così che funziona i pranzi di Natale si inizia a mangiare intorno e io io qua voglio sapere dai terroni in chat perché io la faccio alla terrona i terroni in chat se mi danno conferma pranzo di Natale si comincia a mangiare intorno all'uno e mezza due si comincia molto tardi a mangiare uno e mezza due si va avanti fino alle quattro e mezza cinque due ore in cui si dorme sul divano poi dalle quattro e mezza cinque si va sul divano si guarda zanna bianca mammo perso l'aereo una poltrona e si sta sul divano così dopo verso le otto e mezza nove arrivano la nonna la zia che ti svegliano parte la cena fino a tipo alle undici undici e mezza mezzanotte si scartano si aprono i regali o comunque si finiscono ad aprire i regali c'è chi li apre anche alla sera di Natale c'è chi li apre la vigilia comunque arrivato a mezzanotte tombola burraco frutta secca si gioca a bestia si gioca a bestia scancherando con i parenti che cominciano a urlare avvocato ingegnere dottore professore che tu non capisci un cazzo di quello che fanno però io so che bestia si gioca urlando mestieri alla cazzo e poi verso l'uno e mezza due tre di prendere dall'orario si saluta e si va per qualche minuto mentre la mogliemi come al solito gli prepara l'ultimo e forse il più calorico pasto della giornata sono le 23 ma questo è il più calore cosa sono quelle vasche di burro lì 4 minuti e ci sono giustamente le persone come Jacopo e Mirko o meglio i ragazzetti di Andrea che vanno a nanna mentre il buon papà resta sveglio a mangiare il quinto ed ultimo si è di Taiwan ragazzi pasto della giornata e che pasto? è un pasto impegnativo questo lo lascio per ultimo perché altrimenti mi inchioda durante la giornata me lo descrivi Andrea gentilmente e allora abbiamo un filetto di salmone con delle verdure miste delle mozzarella e ciliegine ma quante scusami un'intera scatola un intero vassoio un accompagnamento con un po' di creca e poi per chiudere la giornata abbiamo mezzo chilo di yogurt greco e questa sera dei dolcetti speciali fatti da mia moglie mi chia zia zio mezzo chilo di yogurt greco alle 11 di sera dopo un salmone e una scatola di mozzarella e mezzo chilo di yogurt non deve essere intollerante alla tosi ragazzo non deve essere intollerante alla tosi ragazzo se no sta roba qui ti caghi addosso per una settimana cioè nel senso il solito bicchiere di tè refreshing giusto per alzare un po' le calorie vabbè ci piace il tè cin cin Andrea allora tu va iniziamo questo banchetto no no l'han detto che GTA sarà sei sarà Vice City per un po' di cracker grazie eh troppo gentile buonissimo questo salmone super speziato questo è veramente gustoso cioè stavo pensando o meglio mi sto mettendo nei panni delle persone a casa che stanno vedendo questo video e diranno ma questi due ragazzotti vanno appena finito di fare un turno pomeridiano in fabbrica che mangiano così tanto a quest'ora di sera no Thomas avendo visto il video lo so quello che fate no signori miei questo sarebbe diciamo il classico pre nanna di Andrea della seconda cena e riesce a digerirla con tranquillità dopo cena solitamente mi siedo sul divano aspetto un'oretta prima di andare a letto così da essere sicuro di digerire e la sera prendo ancora integratori naturali da cui c'è anche multivitaminico omega t astragolar molipo multivitaminico acido madonna mia enzimi digestivi che mi aiutano a digerire ah te li prendi gli enzimi digestivi ok buonissime anche le verdurine giusto per alzare un po' la quota di fibre ma che in realtà è bassissima ma che è proprio gusto averti mangiare Andrea le mozzarella sono anche buone la cosa positiva è che negli anni ho trovato una dieta che mi piace e che sono iniziato di gestire tutti i giorni ma la cosa positiva oltretutto è che avendo provato la tua dieta oggi io mi sento leggerissimo cioè fino ad ora avrò mangiato super giù con le 6.000 calorie penso però mi sembra di averne mangiato 2.000 ma perché perché il cibo è di qualità si ho capito Thomas tu perché c'è uno stomaco sfondato io se mangio sta roba qui ma tormento per 16 anni non ti gonfia è un cibo che si digerisce bene non è junk food si ma è tanto però altra curiosità ma una dieta così quanti soldi può costare più o meno al giorno sapresti farmi una stima al giorno no però al mese siamo di poco sopra dei 1.000 euro 1.000 euro per micchia raga impegnativo porca troia impegnativo 1.000 euro al mese solo per lui peraltro solo per lui 1.000 euro al mese impegnativa sta dieta qua mantenere la dieta di Andrea senza contare di integratori eccetera altra piccola cosa interessante perché prima ho parlato con Andrea mi ha confessato una cosa che in realtà capita spesso volentieri che quando torno da palestra si fa anche qualche sputino extra come ad esempio due barrette proteiche no quello è prima dopo la palestra le pringles dopo la palestra mezzo parlo di pringles si capita che delle volte rientro la palestra effettivamente di mo Andre siccome mangi così poco un languorino ti viene ha ragione poverino mangia così poco che un languorino dopo palestra ti viene mezzo tubo di pringles ti scappa mamato non ho la pazienza di aspettare la cena ma poi non c'è un po' di pringles è normale come fanno tutti ci fanno il snackino prima di mangiare hai ragione facciamo lo cracker prima di mangiare i miei fish grazie per i 4 ma ti lo grazie di sapere hai ragione e con il pesce di solito lo alterni con altre cose no mangio sempre il salmone tutte o quasi le sere salmone si tutti i giorni sai che spendi anche più di 1000 euro al mese mi sono preso il dito io chiacchieravo cioè lui è già il dessert no è lui Andrea ma un filo di miele in quello yogurt non calma in questo momento faccio una pausa più flessiva prima di attaccare il yogurt perché signori miei ora abbiamo ben 500 grammi di yogurt cioè 500 grammi sì non sembra ma mezzo chilo di yogurt si senti sullo stavo no no invece sembra come non sembra no no ma che non sembra 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 ma cingras per i 14 io parto con gli yogurt greco greco semplicemente greco è quello diciamo bianco senza zuccheri quindi lo facciamo ah lo ci siamo già mi mancano anche 20 centimetri come si chiama questo dolcetto ma sono dei dolcetti alle mandorle con dentro della crema pasticcera che ha fatto mia moglie oh ma che amore non stava farcendo la maionese stava mettendo la crema pasticcera ma che carina dai stava facendo la siringa è il dolcetto sicuramente non so come si chiamino ma sono tipici di taiwan taste test o m g amazing non posso gridare perché ci sono i bimbi a letto ma è veramente straordinario a me piace anche la crema tra l'altro con la crema pasticcera ma proprio esplode guardate che roba ma torniamo lo yogurt mi sa che faccio un filo fandom con lo yogurt sto fregato ultimo bigliet ma che belli sono mi è venuta voglia di crema pasticcera ma tantissimo ultimo mosso per me e ultima scucchietta per Andrea ebbene Thomas questa è la mia dieta ricapitolando quindi la dieta di Andrea ha un mostruoso apporto calorico totale di 8000 calorie che sono sicuramente tantissime per le persone comuni ma che nel suo caso perfette per mantenere i suoi 160 kg si pesa su una bilancia quella sulla bilancia industriale quella per pesare i transpallet scaricati dai camion peso corporeo di avere la giusta energia per sollevare o spostare dei pesi letteralmente disumani lui quando il camion ha un problema al motore lui diventa il motore del camion questo camion ha un'Andrea di cilindrata questo camion non ha 4000 cavalli ha un'Andrea basta ne avanzano per portarlo in giro fa che dire Andrea grazie mille di avermi ospitato qui a casa tua grazie mille di aver condiviso con me la tua dieta ma soprattutto con il pubblico a casa figo sto video è carino mi ha fatto un sacco rimini si è fatto un sacco ridere è carino sto video è molto figo vediamo un po' cosa possiamo vedere adesso qualcosa di leggero qualcosa di tranquillo qualcosa di non troppo impegnativo dai vediamo un po' guarda avevo trovato un video che si chiama idioti alla guida che c'ha 7 milioni e mezzo di visual 7 milioni e mezzo non è bedriver idioti alla guida oh mi aspetto delle cose mirabolanti con 7 milioni e mezzo di visual perché che c'è semitrack nirly dio canaglia ste manovre di merda che fanno che cazzo ma chi ha cominciato a fare cioè ha cominciato a fare una gara di corsa fammi capire cosa fa? ma cosa sei pazzo? ma che cazzo ma cosa sei pazzo? ma cosa fa questo? eh zio mi ha fatto bene ma cosa sei scemo in culo? ma perché cosa fai ste manovre con un camion? cioè non è un camion è un tipo un camion cioè ma cosa sei suonato? questo giusto in america può essere bellissima manovra dio infigione questa stronzata comunque noto che è diffusa in tutto il mondo è una cosa abbastanza diffusa quanto meno ho finalmente ripreso un incidente con la mia dashcam beh festeggiamo oddio che cazzo beh l'ha scritto l'ha scritto come se fosse una roba da festeggiare sì ho ripreso l'incidente con 4 morti e 16 feriti dai lo metto su nel come filmino di Natale per i bambini per adesso non vedo nulla ok ma stavano tutti così piano come l'incidente come fa stavano tutti pianissimo ok perfetto complimenti per aver sterzato a sinistra senza frecce eh zio complimenti tranquillo vabbè pensavo peggio fortunatamente dai non si sono ammazzati almeno ma lentissimi hanno fatto l'incidente l'incidente più lento della storia è stato questo si sente che non sono italiani ragazzi si sente che non sono italiani cioè non è partito un dio cane porco dio idiota di merda qui proprio si sente la mancanza del genitalico che ti porta a scancherare fortissimo ah ma tranquillo beh driver o smirna attenzione internazionale il porcone si vuole come chiami questo un coglione ecco come lo chiamo un coglione ecco come lo chiamo non mi vengono in mente altri termini zio ma che cazzo stai si se ti levi dal cazzo se ti levi dal cazzo io ho capito che devi curvare se ti levi dal cazzo non mi stai davanti magari riesco a avere una corsia anch'io what the fuck are you doing se ti levi dai coglioni magari riesco ad andare anch'io cioè tra po' finiva a botte secondo me ma io ragazzi ma dai ma come hai fatto ma era c'era un autobus ma come hai fatto ma eri in un garage ma cazzo ma cazzo ma cazzo era tutto fermo ma come hai fatto ma come hai fatto merda che invornito oddio cristoforo porca troia cazzo ma dai ma scusa ma era tutto era tutto fermo cioè come hai fatto mi fa stranissimo vedere lui a sinistra mortacci tua mortacci tua si è addormentato che è successo? oh pronto si era addormentato era il cellulare non ho capito cosa delle due e che cazzo deve succedere a un benzinaio scusate merda che inculata porca troia merda che inculata cioè gli è entrata nel culo più violento di come io in discoteca sbattevo il pisello sul culo delle ragazze che ballavano è stata un'inculata micidiale madonna sanna che botta gli ha fatto fare altri 40 chilometri in avanti secondo me l'ha portato in un altro stato ma vabbè ci sta ci sta lo capisco effettivamente perché sta realicro scavalchiamo il divisorio delle corsie e vaffanculo ci sta ci sta ci sta lo capisco che cazzo cos'era sta manovra ma cos'è sta manovra che ho appena visto ma com'è fatto scusami che cazzo di paura mi è venuta ma sto coglione di merda ma guarda sto coglione di merda era qui alato io neanche l'avevo visto sto coglione di merda ma vaffanculo colpito da un da un guidatore ubriaco ah ed è pure scappato via tra l'altro mela che botta zio tra l'altro una botta amicidiale ma io neanche l'avevo visto quello lì alato stavo guardando dritto perché c'è la luce di quello dritto che cazzo che cazzo zio la tua macchina perde pezzi però ma che è successo cosa è successo no ragazzi ma che cazzo ma che cazzo la macchina mi ha fatto morire che la macchina è andata via guarda con che nonchalance guarda con che classe la macchina è andata via guarda boi e se n'è andata via che niente leggende narrano che si è slittato fino in alaska ha fatto tutto il tragitto del canada è passato dall'arkansas chicago aveva avuto canada e finita frena 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 oh dio cane oh god curling con le macchine madonna mia comunque posso dire posso dire la verità noi comunque vedendo un po' di clip dei vari bad driver in giro per il mondo noi italiani secondo me abbiamo i riflessi migliori io vi dico la verità secondo me noi italiani siamo il popolo che in auto ha i riflessi migliori perché noi riusciamo quasi sempre comunque a scamparle determinati incidenti qua sembrano che abbiano i riflessi veramente di un maniscalco cioè di una lentezza il tempo di reazione è di una sedia comunque per certe cose ma io v'ammazzo ma io v'ammazzo ma io ma io t'ammazzo ma io t'ammazzo ma se ma con un pick up grande come un tir mi fai sta manovra ma io t'ammazzo cioè ma neanche con una smart con un pick up grande come un camion ma porca ma va a carbone va a carbone o va a ceneri di persone cremate quest'auto porca madosca di dio però che cazzo non aveva l'assicurazione pure pure no ma tranquillo non guardare chi c'hai di lato è come si riagrida il tema di oggi il tema di oggi è dulcis ragazzi quanto ci mancava la pubblicità della mutti dai non sei un amante dei dolci ma sei un dolce amante quanto ci mancava la pubblicità della mutti da vedere chi vince vince tutto è di tesoro ci mancava decisamente il tizio ha mancato due entrate del make ma che cazzo madò ma non avevo visto che gli aveva dato una botta del genere ma gli ha aperto in due la macchina ma che botta gli ha tirato ma non può essere non mi sembrava gli avesse dato una botta del genere ma molta fame cazzo ma che cazzo ma che cazzo ma eravate fermi ma come hai fatto hello there velvet grazie velvet call grazie per i 15 bravo dio è tornato tra le pate cazzo ma eravate fermi e buongiorno a lei ma veramente ma veramente buongiorno anche a lei ma cazzo eravate fermi hai intenzione di fermarti o vuoi continuare a sghezzare entrandomi nel culo ma scusami ma come hai fatto ma ha perso anche la targa che disastro cioè erano fermi adesso si accostano per fare lui sgasa e lo tampona di nuovo frena ma che cazzo io ragazzi sono veramente tanto perplesso su quelle regole di ingresso nel culo ok grazie per la specifica dai non ho messo in pausa nessuno dietro di lui ok ma quanto lento riscala è il veloce non è che si picchiano si picchiano non sto capendo cosa è successo cos'è volato un asse di legno cos'è go on go on che cosa che cosa che cosa ma che cosa è successo ragazzi non ho mica capito cos'è successo ah ah ok l'ha scritto è un drogato che pensava che qualcuno lo stesse seguendo è un drogato in paranoia era un drogato in paranoia convinto che qualcuno lo pedinasse oh mi spia questo in italia ragazzi non ce l'abbiamo questa meraviglia in italia non ce l'abbiamo raga questa bellezza io non l'ho mai vista in un bedriver italiano forse il bedriver bologna ci sono i tossici convinti di essere seguiti ma good reaction no questa questa è una very bad reaction cioè zio se questa no ragazzi no 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 razzi vedi con ragione io cioè nel senso vedi con ragione io sono gli italiani che siamo bravi cioè ragazzi ma come fai a dire good reaction cioè questo ma in mezzo alla strada ora uno due tre cioè ci hai messo due secondi e mezzo zio due secondi e mezzo a realizzare che questo stava partendo cioè no questa è una reaction anzi sotto la media secondo me perché cioè porca troia dai ma cazzo ecco già a far così già quando ha fatto così si è capito che si stava buttando cioè questo qui ci ha messo tre secondi a capire che questo qui andava si vede che ragazzi oh si vede che noi in italia abbiamo un tempo di reazione molto veloce se no non si spiega o magari sono loro che hanno un tempo di reazione veramente lento perché cioè porca troia io capisco che fa un po' in avanti e non ti preoccupi cazzo quello si vedeva che stava andando tempo di reazione del mio trisabolo che ha fatto la prima guerra mondiale in trincea contro gli austro-ungarici ma che cazzo ma che cazzo bellissimo bellissimo ragazzi un secondo mi sto anche pisciando addosso scusate arrivo subito chiedo perdono un attimo grazie a tutti